Alta velocità e dibattito pubblico, c'è la relazione conclusiva. Progetto in stato avanzato, la stazione avrà il nome del Vallo di Diano. Vibonati, auto in fiamme all'alba, indagano i carabinieri, ipotesi cortocircuito. Sala Consilina, trasferimento classi della primaria Cappuccini alla scuola di Fonti. L'amministrazione si scaglia contro il provvedimento della preside. SS Cilentana, questa mattina la visita del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, Tullio Ferrante. Liceo Pisacane, eccellenza formativa nel primo trimestre, grandi risultati e notevoli soddisfazioni in diversi concorsi ed ambi. Ben trovati al nostro appuntamento con l'informazione. La relazione conclusiva al dibattito pubblico sull'alta velocità è stata pubblicata sul sito ufficiale. Una relazione che analizza passo passo tutte le domande e i temi affrontati nel corso degli appuntamenti interlocutori con i territori. Progetto in stato avanzato, non più modificabile, stazione del Vallo di Diano e non di buon abitacolo. Per Sicignano o Lago Negro difficile la riattivazione che è troppo onerosa ma non compromessa dall'alta velocità. Questi alcuni dei temi affrontati. Pienamente rispettato il termine ultimo per la presentazione della relazione conclusiva relativa al dibattito pubblico per la realizzazione dei lotti 1B e 1C della tratta di alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Una relazione da cui si evince un'ulteriore novità in merito all'arrivo dei treni nel Vallo di Diano con stazione confermata sul territorio. E' infatti stato chiaramente indicato nella relazione il nome della fermata che sarà Vallo di Diano. Pur specificando che l'area interessata è ubicata in un'area appartenente al comune di buon abitacolo viene comunque chiarito che la stazione avrà dunque sede nel Vallo di Diano. Un elemento che si evince sin dalle prime pagine della relazione pubblicata sul sito ufficiale del dibattito pubblico e dunque visibile a tutti e che è composta da 92 pagine. Una lunga relazione dunque in cui il coordinamento ha avuto modo di analizzare e illustrare passo passo quanto accaduto nel corso dei diversi appuntamenti del dibattito pubblico che sono partiti tramite incontri webinar a cui hanno preso parte prevalentemente i soggetti portatori di interesse per poi passare agli incontri sul territorio che sono partiti dal Vallo di Diano per concludersi a Sapri passando per Praia Mare. Nella relazione vengono innanzitutto riferiti i benefici della tratta per un territorio che in gran parte risulta privo di collegamenti ferroviari come appunto il Vallo di Diano in particolare per ciò che riguarda il potenziamento del sistema infrastrutturale l'incremento dell'accessibilità e dell'intermobilità tra aree interne e centri metropolitani miglioramento della qualità della vita. Ad aver manifestato contrarietà alla relazione dell'opera come riportato nella relazione sono stati prevalentemente le aree che non risultano direttamente interessate dal passaggio dell'alta velocità. Non a caso risulta che il tema dominante è stato proprio quello riferito alla scelta del tracciato che attraversa il Vallo di Diano a cui hanno replicato i progettisti evidenziando come nell'analisi di tutti i possibili tracciati tale analisi si è esaurita con la certezza che è la migliore soluzione possibile. Grande attenzione ha ricevuto anche il tema dell'attrattività dei territori che nella relazione viene specificato come sia stata sicuramente la più costruttiva tra le diverse tematiche affrontate. Non poteva non essere poi affrontato anche il tema dell'ex trattaferrata sicignano Lago Negro a cui i tecnici hanno risposto che la realizzazione del tracciato di alta velocità non esclude un'eventuale riapertura della linea storica e sospesa ma tale ipotesi è comunque difficilmente ipotizzabile in quanto il tracciato storico, si legge sulla relazione ha caratteristiche che non sono più in linea con le normative di sicurezza e che in caso di riattivazione dovrebbe essere ampiamente modificato con rilevanti impatti sul territorio dovrebbe essere posto in gran parte in rilevato e scatolare i costi sarebbero poi molto rilevanti sia per l'investimento sia per la gestione un passaggio infine anche per ciò che riguarda l'assenza al dibattito pubblico di soggetti statali che hanno commissionato la realizzazione dell'opera e che pertanto avrebbero potuto meglio esplicitare quali erano state le caratteristiche che erano state richieste nella realizzazione del progetto a cui i tecnici di RFI si sono dovuti adeguare non ci saranno modifiche al progetto questo è quanto chiarito da subito nella relazione in quanto si è già in una fase avanzata dell'attività ed è stato realizzato sulla base degli osservazioni del comitato tecnico pertanto il passaggio e la stazione dell'alta velocità nel Vallo di Diano ci saranno e nulla si può più fare per cambiare tale decisione A pochi giorni dal caso di Sapri ancora un'auto è andata in fiamme nella notte ma questa volta avvibonati per i carabinieri si tratta di cortocircuito ma sono in corso le indagini per escludere tutte le ipotesi Nella notte avvibonati una palla di fuoco ha distrutto completamente un'auto non sono chiare le cause che hanno determinato l'incendio che ha provocato non poca preoccupazione tra gli abitanti del posto al vedere le fiamme Si fa però largo l'ipotesi che il tutto sia stato provocato da un cortocircuito sulla vettura anche se i carabinieri sono comunque intenti a svolgere tutte le indagini del caso per escludere qualsiasi altra ipotesi Secondo quanto si apprende pare che le fiamme si siano sprigionate intorno alle ore 5 di questa mattina da una Dave Matiz che in pochissimo tempo ha avvolto tutto l'abitacolo riducendo in genere la vettura e lasciando solo una carcassa I vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino nonostante il repentino arrivo sul posto non sono riusciti a salvare nulla della vettura che era già una palla di fuoco Al termine delle operazioni di spegnimento sono dunque partite le indagini a seguito dell'arrivo anche dei militari dell'arma del nucleo operativo e radiomobile e della compagnia di Sapri che avvalendosi del supporto dei caschi rossi hanno raccolto elementi necessari per capire le cause scatenanti dell'incendio cause su cui stanno ora indagando i carabinieri della stazione di Vibonati anche se secondo quanto emerge sembra che vi siano pochi dubbi sulla possibilità che le fiamme si siano sviluppate a causa di un cortocircuito della stessa vettura a preoccupare la comunità Bussentino al verificarsi dell'ennesimo caso di veicoli incendiati in pochi giorni nella scorsa settimana infatti si è registrato l'incendio di altre due vetture e di un ciclomotore tutti appartenenti alla stessa famiglia e pertanto per i carabinieri della locale compagnia sembra molto più probabile che l'incendio in quel caso sia avvenuto per cause dolose La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Sala Consilina Viscigliete emana un provvedimento di trasferimento delle classi della primaria Cappuccini a Fonti una decisione a cui si oppone l'amministrazione comunale che secondo quanto emerge non è stata consultata Spostamento delle classi della scuola primaria Cappuccini presso l'edificio scolastico di Fonti una decisione assunta dalla dirigente scolastica Pagano senza alcuna interlocuzione con l'amministrazione comunale A chiarire la posizione e a sottolineare come tale decisione non sia giustificabile è la stessa amministrazione salese con apposita nota stampa che accende riflettori sul provvedimento varato dalla preside e che vorrebbe accorpare il plesso di Cappuccini con il plesso di Fonti una scelta che come chiarito nella nota dell'amministrazione comunale non è mai stata concordata e di conseguenza avallata dalla stessa amministrazione annunciando che la nota sarà condivisa con tutti i consiglieri comunali attraverso apposita delibera consigliare al fine di raccogliere le posizioni di ciascun consigliere in merito alla decisione assunta dalla preside per l'amministrazione Cavallone trasferire le aule della scuola primaria Cappuccini nel plesso di Fonti comporterebbe non poche difficoltà nella gestione degli spazi con rischio concreto di dover anche comportare difficoltà nella gestione degli spazi dedicati al servizio mensa il provvedimento della dirigente Pagano sarebbe peraltro arrivato senza aver coinvolto nella decisione non solo l'amministrazione ma anche le famiglie dei bambini che frequentano la stessa scuola sicuramente scrivono dall'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cavallone una decisione così improvvisa che interessa anche la distribuzione sul territorio comunale delle strutture scolastiche andava condivisa e concordata riteniamo doveroso informare la popolazione che attualmente il plesso di Cappuccini risulta attivo presso la piattaforma del MIUR con il codice scuola SAE E89601X motivazione per la quale invitiamo le famiglie interessate a scrivere i propri figli presso la summenzionata scuola il provvedimento della dirigente scolastica continuano è quantomeno precipitoso anche perché disciplina sulla distribuzione degli spazi scolastici a disposizione per l'anno 2024-2025 senza conoscere l'effettiva disponibilità degli stessi secondo l'amministrazione comunale anche definire una nuova allocazione per segreteria e dirigenza non sono possibili senza conoscere gli spazi a disposizione visto anche il nuovo piano di dimensionamento scolastico che ha accorpato l'Istituto Camera al Viscigliete e considerato che presso l'Istituto Camera sono in corso lavori programmati dalla provincia di Salerno e presto inizieranno anche lavori di efficientamento energetico approvate dalla Giunta regionale della Campania misure importanti a sostegno delle famiglie della natalità tra cui misure per la conciliazione famiglia-lavoro e il voucher per i secondo geniti vediamo La Giunta regionale della Campania ha approvato misure importanti a sostegno della famiglia e della natalità sono previste misure di conciliazione famiglia-lavoro per un importo di 10 milioni l'obiettivo è quello di rafforzare l'offerta dei servizi di welfare e la loro accessibilità per meglio conciliare i tempi vita-lavoro delle donne occupate o in cerca di occupazione sono previsti i servizi di babysitteraggio fruizione degli asili nido autorizzati per i bambini da 0 a 3 anni fruizione di servizi di assistenza pomeridiana ludoteca per i bambini dai 3 ai 12 anni attivazione di sportelli di orientamento al lavoro per le donne disoccupate in cerca di occupazione sempre per un importo di 10 milioni è previsto anche il voucher per l'erogazione dell'assegno unico per i nuovi nati secondo geniti l'intervento prevede un voucher di 600 euro alle famiglie in cui sia la nascita di figli successivi al primo la regione provvederà ad effettuare accordi con le strutture ospedaliere e gli uffici di stato civile al fine di tracciare ogni nuova nascita per la tempestiva erogazione del voucher e ad attivare accordi e convenzioni con le strutture sanitarie e parasanitarie disponibili a fornire i servizi e le forniture per l'utilizzo del voucher che vale anche per l'acquisto di prodotti per l'infanzia previsto il sostegno per spese sanitarie dei minori per un importo di 5 milioni un sostegno economico alle famiglie con minori fino a 10 anni e un'isee fino a 12.500 euro tramite il rimborso delle spese mediche o dontoiatriche e delle cure e visite specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale sostenute per i minori per un massimo di 500 euro c'è poi il voucher per l'accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti i sei per l'abbattimento della retta per un importo di 5 milioni la misura viene rinnovata anche per l'anno educativo 2023-24 con l'erogazione di voucher fino a 3.000 euro per il pagamento della retta di nidi e micronidi rivolti alle famiglie con bambini tra 0 e 36 mesi infine la promozione dell'affido e della bigenitorialità per un importo di 3 milioni l'obiettivo è quello di rafforzare i centri per le famiglie valorizzando la prossimità al cittadino dei servizi territoriali e di supporto alla genitorialità mediante iniziative specifiche tese alla tutela della bigenitorialità per i genitori separati alla promozione delle procedure di affido familiare compresi gli affidi difficili all'adozione e alla tutela dei minori Le cardiologie a sud di Salerno sono al collasso per la mancanza di medici a denunciare la situazione la FPCGL tra gli ospedali in sofferenza c'è il curto di Polla dopo la sollecitazione arriva l'annuncio dell'ASL su nuovi medici in arrivo le cardiologie a sud di Salerno sono al collasso per la mancanza di medici a denunciare la situazione la FPCGL Salerno tra gli ospedali in sofferenza c'è Luigi Curto di Polla il sindacato aveva chiesto chiarimenti all'ASL sui provvedimenti da assumere e l'azienda sanitaria ha risposto alla sollecitazione annunciando nuovi cardiologi a Polla, Oliveto Citra e Vallo della Lucania siamo lieti commentano il segretario generale Antonio Capezzuto e il coordinatore medice e dirigenza sanitaria Massimiliano Bozza di registrare che a seguito delle nostre sollecitazioni si è ripreso a scorrere la graduatoria di cardiologia con proposta di servizio per la zona sud di Salerno che finora aveva scarsamente beneficiato della procedura concursuale verificheremo se i cardiologi prenderanno servizio effettivamente entro il termine dato e se si prenderà scorrere la graduatoria per assicurare che ogni reparto di cardiologia abbia la dotazione minima prevista di medici la FPCGL Salerno nei giorni scorsi aveva messo in evidenza che la persistenza di carenza di dirigenti medici presso le unità operative di cardiologia UTIC dei presidi ospedalieri periferici a sud di Salerno desta preoccupazione per i carichi di lavoro gravosi tali da compromettere sia la dignità che la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini cui sono erogate le prestazioni cardiologiche nonostante le nostre continue sollecitazioni non ultima quella dello scorso 23 ottobre e le relative rassicurazioni avevano detto in una nota ad oggi risultano particolarmente carenti le unità operative di cardiologia di Oliveto Citra, Polla e Sapri che, è appena il caso di ricordare, rappresentano un elemento essenziale nella filiera dell'emergenza urgenza specie in questo periodo in cui pronto soccorso sono presi letteralmente d'assalto mandando in tilt la filiera avevano quindi chiesto all'ASL chiarimenti circa i provvedimenti urgenti da assumere e avevano sottolineato quanto prevede il contratto nazionale dei lavoratori ovvero che sono programmabili per singolo dirigente non più di 5 turni di guardia notturni e che sono programmabili non più di 12 servizi medi mensili complessivi intesi come somma dei servizi di guardia e servizi di pronta disponibilità per evitare contenziosi col personale della dirigenza medica è necessario quindi che ogni unità operativa abbia a disposizione almeno 7 medici Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale si è svolto questa mattina il sopralluogo tecnico del sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'onorevole Tullio Ferrante accompagnato dal responsabile di ANAS Campania l'ingegner Nicola Montesano sul viadotto Acquarulo della SS18 Var Cilentana il sottosegretario ha visitato l'opera ed ha approfondito con la guida del personale di ANAS i vari passaggi tecnici effettuati sino ad oggi Sono partite le attività di cantiere come potete vedere oggi sono partite già mercoledì scorso faremo degli interventi abbastanza complicati ma anche certosini partiremo quindi con degli interventi di ripristino corticale sulla sella dopodiché faremo delle perforazioni per poi infilare delle barre di vidag che vengono iniettate collegate tra di loro alzeremo poi l'imbalcato attraverso dei martinetti quindi sarà realizzato l'imbalcato saranno riposizionati i carichi sugli appoggi poi ripristinata la sede viabile e riaperta al traffico Invece per quanto riguarda la bussentina che si dice che bisognava intervenire insomma per proprio ricostruire alcuni viadotti Entro la primavera inizieremo le attività quelli sono gli interventi già programmati, finanziati già abbiamo un'impresa stavamo solo chiudendo la parte degli espropi perché per non chiudere completamente la viabilità stiamo creando un bypass di fianco al viadotto proprio per dare la continuità al traffico stiamo completando la parte degli espropi quindi entro la primavera partiremo con le attività Ok, ovviamente in tempo perché poi d'estate non ci siano disagi Ma in ogni caso non sarà interrotto al traffico perché il bypass come diceva però il bypass ha proprio il viadotto quindi il traffico sarà comunque dato I ragazzi del liceo scientifico Pisacane di Padula si confermano eccellenze in diversi ambiti anche nel primo trimestre scusate, trimestre dell'anno scolastico 2023-2024 sono infatti riusciti ad emergere a livello nazionale nei diversi concorsi a cui hanno partecipato La formazione del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula si conferma di grande eccellenza il primo trimestre dell'anno scolastico 2023-2024 infatti è stato un periodo di grandi successi per gli allievi dell'Istituto Padulese che sono riusciti ad emergere in diverse competizioni a livello nazionale come il caso di Donato Barone della Quarta D di Scienze Applicate che ha ottenuto la medaglia di bronzo alla ventitresima edizione delle Olimpiadi di Informatica a cui sono riusciti ad arrivare solo in 105 e l'alunno del Pisacane è riuscito ad arrivare terzo sempre in ambito informatico un altro successo degli alunni dell'Indirizzo di Scienze Applicate la squadra Control Freak composta da Donato Barone, Luigi Grottola, Tommaso Forte e Demetrio Di Spirito ha infatti conquistato in Campania la seconda posizione nelle prime due competizioni alle Olimpiadi di Informatica a squadre e il primo posto nella terza sfida ottimi piazzamenti anche per la squadra KKK composta da Antonio Balbo, Viviana Pascuccio, Andrea Petrazzuolo e Davide Salvati eccellono nell'ambito informatico i ragazzi del Pisacane a dimostrarlo anche l'importante risultato raggiunto da sei allievi che su 4.400 iscritti sono riusciti ad entrare tra i 1.660 ammessi alla quarta edizione delle Olimpiadi Italiane di Cyber Sicurezza a rappresentare il Pisacane saranno Donato Barone, Andrea Petrazzuolo, Viviana Pascuccio, Anna Maria Lavista, Antonio Balbo e Luigi Grottola oltre all'informatica i ragazzi del Pisacane riescono ad eccellere anche nel campo della fisica come dimostra la qualificazione alla fase provinciale dei campionati di fisica di sei alunni che sono Tiziano Trezza, Giulio Maria Forte, Flavia Rita Breglia, Luigi Florio, Mariano Germino e Francesco Corona A ciò si aggiunge anche il terzo posto ottenuto al concorso un giorno da Certosiro grazie al video realizzato con la guida del professor Vincenzo Maria Pinto sull'antica tradizione del latte dell'ascensione Ottimi risultati anche per gli alunni della classe quarta B Luigi Florio, Donato Chiariello, Domenico Gorga e Ida Marchesano che si sono classificati al primo posto a livello regionale e all'undicesimo a livello nazionale per la redditività degli investimenti di borsa nell'ambito del corso concorso Conoscere la Borsa 2023 realizzato con la Fondazione Carisal partecipando, guidati al professor Bruno Starace, al contest Stock Market Learning in particolare si stanno cimentando nella gestione di un capitale finanziario virtuale di 50.000 euro attraverso investimenti diretti in titoli quotati sui principali listini internazionali di borsa Soddisfazioni sono arrivate in ambito linguistico anche 100 studenti infatti hanno conseguito le certificazioni Cambridge di lingua inglese Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Marilena Vigiano che ha sottolineato come il liceo di Padula sia garanzia assoluta per l'acquisizione delle competenze necessarie per affrontare le sfide di oggi e di domani E ancora a scuola l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio gli alunni delle terze media hanno potuto esplorare l'aula di robotica Domenica è previsto il prossimo appuntamento con gli Open Day Giornata dedicata ai ragazzi del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado all'Istituto Sacco di Sant'Arsenio dove nel pomeriggio di mercoledì gli alunni hanno potuto approfondire la conoscenza dell'aula di robotica Supportati dai nostri studenti e dal professore Giuseppe Caminiti fanno sapere dalla scuola si sono cimentati nella costruzione dei robot è un'attività che richiede un processo di risoluzione articolato fatto di tante fasi, di tanti ruoli diversi e soprattutto di diversi tentativi l'importante è non mollare al primo problema tecnico poi l'invito al prossimo Open Day domenica 21 gennaio quando, affermano dalla scuola, potranno essere visitati il laboratorio di robotica e tutti gli altri laboratori l'appuntamento domenica è dalle 16 alle 20 così come già avvenuto domenica scorsa ad accogliere gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado ci saranno i docenti e gli studenti del Sacco per rappresentare ai giovani visitatori e alle loro famiglie l'ampia offerta formativa della scuola tra gli indirizzi di studio ITE, amministrazione finanze e marketing IPSEOA, servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e odonto tecnico l'indirizzo amministrazione finanze e marketing si legge sul sito della scuola caratterizza la formazione in ambiti e processi aziendali per la competitività del sistema economico e produttivo del paese come quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi aziendali l'indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera ha lo scopo di far acquisire allo studente a conclusione del percorso quinquennale le competenze culturali, sociali, tecniche, economiche e normative necessarie per l'educazione, la formazione culturale e per l'inserimento lavorativo nelle filiere dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera l'indirizzo arti ausiliarie delle professioni sanitarie odonto tecnico è nato nel corso dell'anno scolastico 2021-2022 con durata quinquennale e con possibilità di accedere al mondo del lavoro come dipendente di un odonto tecnico titolare di un laboratorio o come assistente alla poltrona e con questo servizio termina il nostro telegiornale io vi ringrazio per essere stati con noi buon proseguimento e con questo servizio termina